Viene quello, viene quell'altro, se ti vieni quello, mi tengo quello, se viene quell'altro, viene con l'altro, mi tengo quest'altro. Oppure Rafa Benitez! Ma davvero vogliamo parlare su chi sarà il prossimo allenatore della Roma? O forse dobbiamo ancora parlare dell'addio di Daniele De Rossi? Dopo questo articolo uscito ieri sulla Repubblica, sembra passata un'eternità, invece sono passati solo 5 giorni. Ma il magnifico ambiente romano ci ha regalato questo? Tutte falsità? Arriveranno le querele? Giornalisti che sono pronti a tirare fuori le carte! E ma come mai quest'articolo esce solamente adesso, in questo momento così delicato? In questo momento di feroce contestazione da parte dei tifosi della Roma contro la società? E inoltre, se fosse vero, sarebbe ancora più grave, perché la società sapeva tutto e non ha mosso un dito. Ma in tutto questo chi pensa alla Roma? Chi pensa a noi tifosi? Ai posteri l'ardua sentenza. Forza Roma! Forza Roma!